Benvenuti su Whispers of Wisdom, il canale che vi guiderà attraverso un viaggio di trasformazione interiore e crescita personale. Sono qui per invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdere neanche un video carico di saggezza e ispirazione. Lascia un like se trovi valore nelle nostre parole e condividi il video per sostenere il nostro canale. Grazie per essere qui e per essere parte di questa comunità di crescita e consapevolezza. Ora, immergiamoci nel potere della saggezza interiore e iniziamo questo viaggio insieme. Nel profondo di ogni anima alberga un desiderio ardente, la vita che sogniamo, ricca di amore, successo e realizzazione. Eppure, spesso, questo sogno rimane inafferrabile, come un miraggio che sfugge al nostro inseguimento. Ci troviamo in un labirinto di desideri e aspirazioni, ma spesso ci sentiamo persi, incapaci di trovare la strada che ci condurrà alla realizzazione di ciò che bramiamo. È come se fossimo legati da catene invisibili, imprigionati dalle nostre paure e limitazioni. Ma c'è un segreto, un'antica verità che giace nascosta nel tessuto dell'universo, pronta ad essere scoperta e abbracciata da coloro che sono pronti a credere. Questo segreto è conosciuto come la legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione non è semplicemente una teoria o un concetto astratto, è una forza potentissima che permea l'universo stesso. Essa afferma che ciò che pensiamo, sentiamo e crediamo profondamente, lo attiriamo nella nostra vita. In altre parole, siamo i creatori della nostra realtà. Ciò potrebbe sembrare sorprendente o persino impossibile, ma riflettete su questo. Ogni cosa che vediamo intorno a noi, ogni grande impresa umana, ogni invenzione rivoluzionaria è nata prima come un pensiero, una visione nella mente di qualcuno. La legge dell'attrazione ci insegna che siamo i maestri dei nostri destini, i creatori delle nostre vite. Ma come possiamo applicare questa legge potente nelle nostre vite quotidiane? È qui che entra in gioco la consapevolezza e la pratica deliberata. Dobbiamo imparare a coltivare pensieri positivi, sentimenti di gratitudine e fiducia nel processo creativo dell'universo. Dobbiamo sintonizzarci con le energie che desideriamo attirare nella nostra vita, agendo e pensando come se ciò che desideriamo fosse già una realtà tangibile. È un processo che richiede disciplina e dedizione, ma i risultati possono essere sorprendenti. Quando cominciamo a vibrare su un'energia di abbondanza, di amore e di gratitudine, l'universo risponde a noi con la stessa energia, manifestando nella nostra vita ciò che desideriamo. Tuttavia, la legge dell'attrazione non è solo una questione di pensiero positivo e visualizzazione. È importante agire in sintonia con i nostri desideri e rimanere aperti alle opportunità che l'universo ci presenta. Dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide e ad adattarci ai cambiamenti, sapendo che ogni ostacolo è solo un'opportunità mascherata per crescere e imparare. Quindi, miei cari, vi invito a liberarvi dalle catene del dubbio e della paura. Aprite le vostre menti e i vostri cuori alla possibilità infinita che l'universo ha da offrire. Abbracciate la legge dell'attrazione come la chiave per sbloccare il vostro vero potenziale e per vivere la vita che avete sempre sognato. Ricordate sempre, siamo i creatori della nostra realtà, i maestri dei nostri destini. Con la giusta mentalità e la pratica diligente, possiamo manifestare ogni desiderio nei nostri cuori. L'universo è pronto ad ascoltarci, basta solo avere il coraggio di chiedere e la fiducia di credere che ciò che desideriamo è già nostro. I principi universali ci pongono di fronte a una realtà straordinaria, l'universo è un vasto tessuto interconnesso di energia, in cui ogni pensiero, emozione e azione emette una vibrazione che si propaga nell'infinito. La legge dell'attrazione è una delle leggi fondamentali che governano questo universo, una forza potentissima che ci permette di plasmare la nostra realtà attraverso il potere dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. Questo valore può sembrare magico, quasi occulto, ma è radicato in una profonda comprensione della psicologia spirituale. Esso ci insegna che siamo co-creatori della nostra esperienza di vita, che ogni evento, ogni incontro, ogni situazione che viviamo è il risultato diretto delle nostre energie mentali ed emotive. La chiave per comprendere e utilizzare appieno la legge dell'attrazione risiede nella consapevolezza e nell'auto-osservazione. Dobbiamo imparare a conoscere i nostri pensieri e le nostre emozioni, ad essere testimoni della nostra esperienza interiore. Solo attraverso questa consapevolezza possiamo iniziare a trasformare i nostri schemi mentali e ad allineare la nostra vibrazione con ciò che desideriamo attrarre nella nostra vita. Ma come possiamo essere sicuri che la legge dell'attrazione funzioni veramente? La risposta risiede nell'osservare la nostra realtà attuale. Ciò che stiamo vivendo in questo momento è il risultato diretto dei nostri pensieri e delle nostre credenze passate. Se vogliamo cambiare la nostra realtà, dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo coltivare pensieri di abbondanza, di gratitudine e di fiducia, anche quando le circostanze esterne sembrano ostili. La legge dell'attrazione non è una bacchetta magica che trasforma istantaneamente i nostri desideri in realtà. Richiede tempo, impegno e pratica costante. Dobbiamo essere pazienti e persistenti nel nostro lavoro interiore, fiduciosi che ogni piccolo passo ci avvicini sempre di più al nostro scopo. Ma non dobbiamo affrontare questo viaggio da soli. L'universo è pieno di risorse e di supporto, pronti ad aiutarci lungo il nostro cammino. Possiamo sintonizzarci con l'energia dell'universo attraverso la meditazione, la visualizzazione creativa, la preghiera o qualsiasi pratica spirituale che risuoni con noi. L'importante è mantenere viva la fiamma della speranza e della fiducia nel potere della legge dell'attrazione. Dobbiamo ricordare che la legge dell'attrazione è una forza neutra. Non discrimina tra pensieri positivi e negativi, ma risponde semplicemente alla nostra vibrazione dominante. Quindi, è fondamentale vigilare sui nostri pensieri e sulle nostre emozioni, evitando di alimentare paure, dubbi e pessimismo. La legge dell'attrazione è molto più di una semplice teoria motivazionale. È un principio universale che ci invita a prendere consapevolezza del potere creativo che risiede dentro di noi e a usarlo per plasmare la nostra realtà. È un viaggio di trasformazione interiore che ci spinge a diventare la migliore versione di noi stessi, per manifestare la vita dei nostri sogni e realizzare il nostro pieno potenziale. La forza del pensiero è il cuore pulsante della legge dell'attrazione, il motore che alimenta il processo creativo dell'universo. Ogni nostra idea, ogni parola e ogni sentimento emana un'energia specifica che risuona nell'infinito dell'universo. È come se fossimo dei trasmettitori viventi, emettendo segnali che l'universo riceve e traduce in esperienze tangibili nella nostra realtà. Quando ci concentriamo su pensieri negativi, come paura, dubbio e rabbia, inviamo segnali di bassa frequenza nell'universo. Questi segnali agiscono come magneti, attirando a noi esperienze e situazioni che riflettono la nostra vibrazione interiore. È come se creassimo una spirale discendente, in cui ogni pensiero negativo alimenta ulteriori pensieri negativi, creando un circolo vizioso di insoddisfazione e mancanza. D'altra parte, se coltiviamo pensieri positivi di gioia, amore e fiducia, inviamo segnali di alta frequenza nell'universo. Questi segnali agiscono come un faro luminoso, attrarre a noi esperienze e persone che risuonano con la nostra vibrazione elevata. È come se creassimo una spirale ascendente, in cui ogni pensiero positivo si moltiplica, portando sempre più abbondanza e felicità nella nostra vita. Ma come possiamo coltivare pensieri positivi e liberarci da quelli negativi che sembrano così pervasivi nella nostra mente? La risposta risiede nella consapevolezza e nella pratica quotidiana. Dobbiamo imparare a osservare i nostri pensieri senza giudizio, riconoscendo quando ci troviamo immersi in schemi mentali dannosi. Una volta identificati, possiamo sostituire quei pensieri negativi con affermazioni positive e gratitudine. Inoltre, è importante avvalersi di pratiche che ci aiutino a sollevare la nostra vibrazione energetica. La meditazione, ad esempio, è un potente strumento per calmare la mente e connettersi con la nostra essenza più profonda. Durante la meditazione, possiamo visualizzare e sentire ciò che desideriamo manifestare nella nostra vita, rafforzando così il nostro legame con l'universo. La pratica della gratitudine è un'altra chiave importante per attivare la legge dell'attrazione. Quando ci concentriamo su ciò che abbiamo già nella nostra vita, anziché sulle mancanze, inviamo un segnale di fiducia e apprezzamento all'universo. Questo segnale viene poi amplificato, portando ancora più benedizioni nella nostra esistenza. È fondamentale ricordare che il nostro subconscio gioca un ruolo cruciale nel processo di manifestazione. I nostri pensieri coscienti possono essere positivi, ma se il nostro subconscio è intriso di credenze limitanti, questi blocchi energetici ostacoleranno il nostro progresso. Perciò, è essenziale lavorare anche sul livello subconscio, tramite tecniche come l'ipnosi, la terapia del trauma, o la riprogrammazione delle credenze limitanti. La forza del pensiero è una delle più potenti leve che possediamo per plasmare la nostra realtà. Ogni pensiero, parola e sentimento che emettiamo ha il potere di attrarre nella nostra vita esperienze e persone che risuonano con la nostra vibrazione. Attraverso la consapevolezza, la pratica e il lavoro interiore, possiamo liberarci dai pensieri negativi e manifestare la vita dei nostri sogni. Il potere dell'emozione è uno degli aspetti più profondi e potenti della legge dell'attrazione. Le emozioni sono come il combustibile che alimenta il motore della manifestazione. Ciò che sentiamo con intensità ha un impatto diretto sul nostro campo energetico e sulla nostra capacità di attrarre nella nostra vita ciò che desideriamo. Se riusciamo a coltivare e a mantenere emozioni positive come gratitudine, entusiasmo e speranza, possiamo aprire le porte a un flusso costante di benessere e realizzazione. Quando proviamo emozioni positive con profonda intensità, il nostro campo energetico si espande e si allinea con le vibrazioni dell'universo, diventando un magnete potentissimo per attirare esperienze e circostanze che risuonano con quelle stesse energie. È come se creassimo un campo magnetico intorno a noi, che attrae a sé tutto ciò che è in armonia con le nostre emozioni dominanti. Tuttavia, è importante comprendere che le emozioni non possono essere finte o forzate. Devono essere genuine e autentiche, altrimenti il nostro campo energetico risulterà disallineato e poco efficace nell'attrarre ciò che desideriamo. Quindi, il primo passo per utilizzare il potere dell'emozione è coltivare una consapevolezza profonda delle nostre emozioni e dei nostri stati d'animo. La gratitudine è una delle emozioni più potenti che possiamo coltivare. Quando ci concentriamo su ciò che abbiamo già nella nostra vita anziché sulle mancanze, inviamo un segnale al nostro campo energetico che dice, sono grato per tutto ciò che ho. Questo segnale viene poi amplificato dall'universo, che risponde inviandoci ancora più motivi per essere grati. L'entusiasmo è un'altra emozione chiave per attivare il potere dell'emozione. Quando siamo entusiasti riguardo a un obiettivo o a un desiderio, la nostra energia si accende e si espande, aprendo le porte a infinite possibilità. L'entusiasmo ci permette di visualizzare il nostro successo in modo vivido e realistico, alimentando la nostra determinazione e la nostra perseveranza. La speranza è un'altra emozione potente che ci permette di superare le sfide e le difficoltà lungo il nostro cammino. Quando manteniamo viva la speranza nel cuore, anche nelle situazioni più difficili, inviamo un segnale all'universo che ci dice, credo che tutto si risolverà per il meglio. Questo segnale viene poi amplificato dall'universo, che risponde inviandoci soluzioni e opportunità che prima sembravano impossibili. Il potere dell'emozione è uno strumento straordinario che possediamo per manifestare la vita dei nostri sogni. Coltivando emozioni positive come gratitudine, entusiasmo e speranza, possiamo creare un campo energetico che attira a noi esperienze e circostanze che risuonano con la nostra vibrazione più elevata. Siamo i creatori delle nostre emozioni, e attraverso di esse possiamo plasmare la nostra realtà con amore, gioia e gratitudine. La creazione consapevole è il fulcro della nostra esperienza con la legge dell'attrazione. Non si tratta semplicemente di lasciare che i pensieri vaghino liberamente nella nostra mente, ma di assumere il pieno controllo della nostra realtà interiore e esteriore. La legge dell'attrazione richiede consapevolezza, impegno e dedizione per essere padroni delle nostre vite. Prima di tutto, dobbiamo comprendere che la legge dell'attrazione non è una bacchetta magica che trasforma istantaneamente i nostri desideri in realtà tangibili. È un processo graduale che richiede pazienza e costanza. Dobbiamo imparare a dominare i nostri pensieri, perché sono essi che plasmano la nostra realtà. Ogni pensiero è come un seme che piantiamo nel terreno della nostra mente, e se lo nutriamo con emozioni intense, crescerà e si manifesta nella nostra vita. Per coltivare una mentalità positiva, dobbiamo essere vigili e consapevoli dei nostri pensieri. Spesso ci troviamo immersi in un flusso costante di pensieri negativi, generati da paure, dubbi e insicurezze. Ma possiamo imparare a riconoscere questi pensieri per quello che sono, semplici creazioni della nostra mente, non realtà definitive. Una volta che abbiamo preso consapevolezza dei nostri pensieri, possiamo sostituirli con quelli positivi e costruttivi. È come se ci allenassimo la mente a pensare in modo diverso, a trovare soluzioni anziché problemi, a vedere opportunità anziché ostacoli. Ogni volta che coltiviamo un pensiero positivo, rinforziamo il nostro campo energetico e attiriamo a noi esperienze simili. Ma la creazione consapevole va oltre il semplice pensiero positivo. Dobbiamo anche essere consapevoli delle nostre emozioni, perché sono esse che danno potenza ai nostri pensieri. Se nutriamo pensieri positivi con emozioni intense come gioia, gratitudine e fiducia, il loro impatto nell'universo sarà moltiplicato. D'altra parte, se nutriamo pensieri positivi con emozioni negative come paura o dubbio, indeboliremo il nostro potere creativo. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre azioni e delle nostre parole. L'universo risponde non solo ai nostri pensieri e alle nostre emozioni, ma anche alle nostre azioni. Se agiamo in coerente, con ciò che desideriamo manifestare nella nostra vita, accelereremo il processo di attrazione. Dobbiamo essere i custodi della nostra energia, assicurandoci che tutto ciò che facciamo e diciamo risuoni con la realtà che vogliamo creare. La creazione consapevole è un viaggio interiore che ci invita a prendere il controllo della nostra mente, delle nostre emozioni e delle nostre azioni. È un processo che richiede impegno e dedizione, ma i risultati possono essere straordinari. Quando diventiamo consapevoli dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, diventiamo i veri creatori delle nostre vite, plasmando la realtà con amore, saggezza e consapevolezza. La sfida interiore è il campo di battaglia più significativo che dobbiamo affrontare nell'utilizzo della legge dell'attrazione. Non sono le circostanze esterne, ma la nostra interiorità, ad essere il vero ostacolo alla manifestazione dei nostri desideri. Le paure, le insicurezze e le credenze limitanti che risiedono nel profondo della nostra psiche possono creare barriere energetiche che ostacolano il flusso delle nostre intenzioni. Spesso ci troviamo bloccati da pensieri negativi che ci dicono che non siamo degni del successo, dell'amore o della felicità. Questi pensieri si radicano nella nostra mente subconscia, plasmando la nostra percezione di noi stessi e del mondo intorno a noi. Possono derivare da esperienze passate, da insegnamenti ricevuti durante l'infanzia o da condizionamenti culturali. Ma dobbiamo capire che queste paure e insicurezze non sono la nostra vera natura. Sono solo il frutto di vecchi schemi mentali che possiamo trasformare con consapevolezza e pratica. La prima cosa da fare è diventare consapevoli di queste credenze limitanti, portarle alla luce della nostra coscienza e riconoscerle per quello che sono, illusioni che ci tengono imprigionati in una realtà limitata. Una volta identificate, possiamo cominciare a trasformare queste credenze limitanti in pensieri più positivi e costruttivi. Possiamo sostituire l'autocritica con l'autocompassione, la paura con la fiducia e l'insicurezza con la certezza del nostro valore intrinseco. Questo processo richiede tempo e impegno, ma è essenziale per liberare il flusso delle nostre intenzioni e permettere alla legge dell'attrazione di operare pienamente nella nostra vita. È importante comprendere che il processo di trasformazione interiore non è sempre lineare. Ci saranno momenti di sfida e di resistenza, in cui le vecchie credenze cercheranno di riprendere il controllo. In quei momenti, dobbiamo essere gentili con noi stessi e ricordare che il cambiamento richiede tempo e pazienza. Possiamo trovare conforto nella consapevolezza che ogni ostacolo è solo un'opportunità mascherata per crescere e imparare. La pratica della meditazione e della mindfulness può essere un prezioso alleato nella sfida interiore. Queste pratiche ci permettono di entrare in contatto con il nostro sé più profondo, al di là del rumore e delle distrazioni della mente. Ci aiutano a sviluppare una maggiore consapevolezza di noi stessi e delle nostre emozioni, aprendo la strada alla trasformazione interiore. La sfida interiore è un aspetto fondamentale del viaggio con la legge dell'attrazione. Affrontare e trasformare le nostre paure, insicurezze e credenze limitanti è essenziale per liberare il potenziale illimitato che risiede dentro di noi. È un viaggio di autoesplorazione e autotrasformazione che ci porta a un livello più profondo di consapevolezza e realizzazione. Con coraggio e dedizione, possiamo superare ogni ostacolo e manifestare la vita dei nostri sogni. Superare le barriere mentali è un passo essenziale verso la manifestazione dei nostri desideri più profondi. Significa liberarsi dai condizionamenti negativi che ci imprigionano in una mentalità limitata e abbracciare una nuova prospettiva di fiducia e possibilità illimitate. È un viaggio interiore che richiede coraggio, determinazione e una profonda connessione con il potere dei nostri sogni. Il primo passo per superare le barriere mentali è diventare consapevoli dei condizionamenti che ci limitano. Questi condizionamenti possono derivare da esperienze passate, da insegnamenti ricevuti durante l'infanzia o dalla cultura in cui siamo cresciuti. Possono manifestarsi sotto forma di autodubbio, mancanza di fiducia o paura del fallimento. Una volta identificati questi condizionamenti, dobbiamo metterli in discussione e riconoscerli per quello che sono, semplici convinzioni che ci sono state imposte, ma che non definiscono la nostra vera natura. Dobbiamo sfidare queste convinzioni limitanti e sostituirle con pensieri più positivi e costruttivi. Un modo per fare ciò è cambiare il nostro dialogo interiore. Invece di autocriticarci o autosabotarci con pensieri negativi, dobbiamo parlare a noi stessi con gentilezza e compassione. Possiamo utilizzare affermazioni positive per rafforzare la nostra autostima e la nostra fiducia nelle nostre capacità. Inoltre, è importante coltivare la fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità. Dobbiamo credere fermamente che siamo degni di ogni bene che desideriamo e che siamo in grado di realizzare i nostri sogni. Questa fiducia interiore è fondamentale per attrarre nella nostra vita ciò che desideriamo, perché l'universo risponde alla nostra vibrazione energetica. Per rafforzare la nostra fiducia, possiamo riflettere su successi passati e realizzazioni personali. Possiamo ricordare i momenti in cui abbiamo superato sfide e ostacoli, dimostrando a noi stessi di essere capaci di affrontare qualsiasi cosa la vita ci presenti. Questi ricordi ci aiutano a riconnetterci con il nostro potenziale illimitato e a mantenere viva la fiamma della speranza e della determinazione. Infine, è importante visualizzare il nostro successo e agire come se ciò che desideriamo fosse già una realtà tangibile. La visualizzazione creativa è una potente tecnica che ci permette di immaginare vivamente il nostro futuro desiderato e di sentire le emozioni positive associate al raggiungimento di quel risultato. Questo ci aiuta a mantenere la nostra vibrazione energetica alta e a attrarre nella nostra vita le circostanze e le persone che ci aiuteranno a realizzare i nostri sogni. In conclusione, superare le barriere mentali è un passo cruciale verso la manifestazione dei nostri desideri più profondi. Significa liberarsi dai condizionamenti negativi e abbracciare una nuova prospettiva di fiducia e possibilità illimitate. È un viaggio che richiede impegno, consapevolezza e una profonda connessione con il potere dei nostri sogni. Ma con determinazione e dedizione, possiamo superare qualsiasi ostacolo e creare la vita che desideriamo veramente. La via della trasformazione è un cammino di crescita interiore e di autodiscovery che ci conduce verso la manifestazione dei nostri desideri più profondi. È un viaggio che ci porta ad esplorare le profondità del nostro essere e a abbracciare la nostra vera essenza, permettendoci di diventare i creatori consapevoli della nostra realtà. In questo cammino, ci avvaliamo di diversi strumenti di potere che ci aiutano ad utilizzare la legge dell'attrazione con maggiore efficacia. Questi strumenti sono come le chiavi che ci permettono di aprire le porte alla realizzazione dei nostri sogni, potenziando la nostra energia e allineandoci con le vibrazioni dell'universo. La visualizzazione è uno strumento potente che ci permette di creare immagini mentali vivide del nostro futuro desiderato. Attraverso la visualizzazione creativa, possiamo immaginare noi stessi vivere la vita che desideriamo, sentendo le emozioni positive associate a quel risultato. Questo ci aiuta a programmare la nostra mente subconscia per attrarre nella nostra realtà ciò che desideriamo manifestare. La meditazione è un altro strumento essenziale sulla via della trasformazione. La pratica della meditazione ci aiuta a calmarci e a centrare la nostra mente, permettendoci di entrare in contatto con il nostro sé interiore. Attraverso la meditazione, possiamo sviluppare una maggiore consapevolezza di noi stessi e delle nostre energie, aprendo la porta alla trasformazione e alla crescita personale. Le affermazioni positive sono una forma di autosuggestione che ci aiuta a ricondizionare la nostra mente subconscia. Ripetendo affermazioni positive su base regolare, possiamo sostituire i vecchi schemi mentali negativi con nuove credenze positive e costruttive. Le affermazioni ci aiutano a mantenere alta la nostra vibrazione energetica, attrarre ciò che desideriamo e allineare la nostra realtà con i nostri obiettivi. La gratitudine è un altro strumento potente che ci permette di allineare la nostra energia con l'abbondanza dell'universo. Praticare la gratitudine ci aiuta a concentrarci su ciò che abbiamo già nella nostra vita anziché sulle mancanze, inviando un segnale di apprezzamento all'universo. Questo segnale viene poi amplificato, portando ancora più benedizioni nella nostra esistenza. Sulla via della trasformazione utilizziamo una serie di strumenti di potere che ci aiutano a manifestare la vita dei nostri sogni. Attraverso la visualizzazione, la meditazione, le affermazioni positive e la gratitudine, possiamo potenziare la nostra energia e allineare la nostra realtà con i nostri desideri più profondi. È un viaggio di crescita interiore e di autodiscovery che ci permette di diventare i veri creatori della nostra vita. La legge dell'attrazione è un dono straordinario che ci è stato dato per creare la vita che desideriamo. È un principio universale che risponde alla nostra vibrazione energetica, manifestando nella nostra realtà ciò su cui concentriamo la nostra attenzione e le nostre energie. Abbracciare questo potente principio e applicarlo con dedizione ci consente di trasformare profondamente la nostra realtà e di realizzare il nostro pieno potenziale. Ma per sfruttare appieno il potere della legge dell'attrazione, dobbiamo imparare a navigare attraverso i flussi e riflussi delle nostre energie interiori. È un viaggio interiore che richiede consapevolezza, pratica e una profonda connessione con la nostra essenza più autentica. Siamo chiamati a esplorare le profondità del nostro essere, a superare le barriere mentali che ci imprigionano e a abbracciare la nostra vera natura di creatori consapevoli della nostra realtà. In questo viaggio, possiamo sfruttare una serie di strumenti e pratiche per amplificare il nostro potere creativo e allineare la nostra energia con i nostri desideri più profondi. La visualizzazione creativa ci permette di creare immagini mentali vivide del nostro futuro desiderato, mentre la meditazione ci aiuta a centrare la nostra mente e a entrare in contatto con il nostro sé interiore. Le affermazioni positive ci sostengono nel ricondizionare la nostra mente subconscia, mentre la gratitudine ci permette di allineare la nostra energia con l'abbondanza dell'universo. Attraverso l'uso consapevole di questi strumenti e pratiche, possiamo liberarci dai condizionamenti negativi che ci limitano e trasformare la nostra realtà in una manifestazione dei nostri sogni più audaci. Ma questo viaggio non è privo di sfide. Dobbiamo affrontare le nostre paure più profonde, superare le barriere mentali che ci imprigionano e mantenere una fede salda nel potere dei nostri sogni. Sulla via della trasformazione, ogni passo che facciamo è un atto di autodiscovery e di crescita personale. Ogni sfida che incontriamo è un'opportunità per imparare e crescere. E ogni successo che raggiungiamo è una conferma del potere illimitato che risiede dentro di noi. Quindi, oggi ti invito a immergerti completamente nella tua capacità di creare la vita che vuoi. Abbraccia il potere della legge dell'attrazione e sii il creatore consapevole della tua realtà. Con consapevolezza, dedizione e fiducia, puoi trasformare i tuoi sogni in realtà e vivere una vita piena di amore, abbondanza e realizzazione. La chiave è dentro di te. Ora è il momento di sbloccare il tuo pieno potenziale e di manifestare la vita dei tuoi sogni. E così, cari amici, vi invito a prendere in mano il timone della vostra vita e a navigare con coraggio e fiducia verso i vostri sogni più audaci. Ricordate che il potere di creare la realtà che desiderate è dentro di voi, pronto ad essere sbloccato e manifestato. Vi incoraggio vivamente a iscrivervi al nostro canale, Whispers of Wisdom, per continuare questo straordinario viaggio di scoperta interiore e trasformazione personale. Attivate la campanellina delle notifiche per non perdere neanche un video e lasciate un like se avete trovato valore nelle nostre parole. Condividete questo video con coloro che amate e lasciate un commento per condividere le vostre esperienze e il vostro sostegno. Insieme, possiamo creare una comunità di crescita e ispirazione, diffondendo saggezza e consapevolezza in tutto il mondo. Grazie di cuore per il vostro sostegno e per essere parte di questa meravigliosa avventura. Vi aspettiamo nel prossimo video su Whispers of Wisdom. Buon viaggio verso la vostra migliore versione.